Domani mattina alle ore 9 l'ufficiale giudiziario si presenterà al cimitero di Sciacca per dare esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale nel mese di agosto dello scorso anno con il quale veniva imposta al comune di Sciacca la restituzione di 39 loculi cimiteriali al circolo ricreativo sportivo Saccenze. Succede anche questo nel contesto della tavica problematica della carenza di loculi al cimitero che il comune di Sciacca si trova ad affrontare da anni. In periodi di emergenza si è proceduto alla requisizione di quelli nelle disponibilità di confraternite, circoli e associazioni ma non sempre la restituzione è stata tempestiva e puntuale. Nel caso specifico il circolo sportivo ricreativo ha deciso di ricorrere alle vie legali per riottenere la disponibilità degli ultimi loculi non ancora liberati e riconsegnati al sodalizio. Hanno dato in carico all'avvocato Stefano Scaduto che il 6 agosto scorso ha ottenuto dal Tribunale di Sciacca il provvedimento d'urgenza che imponeva al comune la immediata restituzione. Non è però finita qui. Da agosto ad oggi, non essendoci stata la conclusione auspicata, il legale del circolo ricreativo sportivo ha presentato un ulteriore ricorso per chiedere al Tribunale di Sciacca la determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento d'urgenza. Ricorso che è stato accolto dal Tribunale che ha rimesso l'esecuzione nelle mani dell'ufficiale giudiziario. Un caso singolare, certamente, destinato a suscitare anche clamore perché l'ufficiale giudiziario domani mattina non si presenterà in un'abitazione privata o in un locale commerciale per procedere allo sfratto, ma al cimitero di Sciacca per la restituzione di loculi, in questo caso al suo delizio che a suo tempo li aveva realizzati, per dare sepoltura ai propri soci nel momento della tragica dipartita. Quello della requisizione o comunque dell'utilizzo di loculi di proprietà di associazioni e confraternite è stato un sistema che il comune di Sciacca ha utilizzato in questi anni in periodi di grave emergenza. Certamente non era prevedibile un simile risvolto.